tornare in questa città con uno stadio nuovissimo e praticamente inaugurarlo per me è un'emozione grandissima, sono molto contento di essere qui oggi sono arrivato stamattina alle 2 del mattino direttamente da Roma per poter essere qui per l'inaugurazione in questo campo ci sono cresciuto, mi ricordo i primi anni addirittura la pista non era neanche di 400 metri prima del campo rosso, ma prima ancora di quel campo lì c'era una pista che era di 340 metri e quindi è veramente emozionante essere qui e spero che questo campo sia il futuro per tanti giovani adesso ma puoi influire sulla velocità un campo di questo genere? sì sicuramente, i manti delle piste o comunque le piste in generale sono molto importanti per la prestazione ci sono piste più prestative, piste meno prestative, dipende se uno vuole puntare su un campo che sia più utile per gli allenamenti o più utile per le gare perché in alcuni casi le piste molto prestative sono logoranti per i tendini quindi dipende uno un po' dall'obiettivo che ha, ma sicuramente un bel campo fatto bene può aiutare sia a preservare gli atleti che le prestazioni in gara grazie 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 grazie